Ciao ragazzi, ben ritrovati e questa spero sia l'ultima partita in divisione 3, ce ne mancano due ma ci serve una vittoria in queste due partite, spero proprio che sia l'ultima in divisione 3, così poi avremo un bel po' di tempo per passare in divisione 1. Ricordiamo che questa stagione finisce il 12 gennaio ma probabilmente io durante le feste di Natale non avrò la possibilità di giocare, voi avrete avuto tanto contenuto perché l'ho diluito ovviamente, questa partita probabilmente la starete vedendo a gennaio, probabilmente forse fine anno, ma speriamo in bene per essere arrivati, speriamo che arriveremo in prima divisione. Avversario di seconda Roma, per quella che speriamo essere l'ultima partita in divisione 3, spero tanto che sia un vero tifoso della Roma, che magari ha tutti i giocatori della Roma, sarebbe divertente, vedo Ronaldo quindi possiamo già dire che forse non avrà solo i giocatori della Roma. Allora, tocca a noi, formazione decisamente molto 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 incoraggiante, mettiamo anche un Ciala con Militarian che è in forma, Gosens sta bene, per il resto non ci possiamo lamentare Lukaku, continua ad essere in super forma, sono molto contento finalmente. E lui ha formazione top, comunque l'unico neo, quel McKennett centriamo non mi piace per nulla, Florenzi a destra non potenziato fino alla fine, Mbappé, Salah, Neymar, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo 89 però non potenziato, quindi in realtà... E lui è in divisione 2 però, magari sta cercando di livellare i giocatori, perché mi pare che è ancora valido, se non erro, sono ancora valide le... diciamo i punti di esperienza, è più il bonus dei punti di esperienza. Vediamo ragazzi, si comincia a sentire un po' di tensione effettivamente, potrebbe essere l'ultima per arrivare in divisione 2. Carichissimo Mkhitaryan Che non so come non si è riuscito a prendere il pallone E lui subito a girare così, Bastoni che va diretto da Brozo Che poi sbaglia due volte E Ciala lo capisce prima Bellissimo l'1-2, a liberare ancora una volta Ciala No, in realtà non volevo lui, volevo Lautaro Lancio lungo Qui Skriniar un po' Un qualche problema Brozo che si fa anticipare, male Mamma mia Oddio ragazzi Che intervento che aveva fatto De Vrij Almeno all'inizio Bastoni in anticipo Dai ragazzi ripartiamo E lui che le alza sempre Noi per adesso, finché non passano Ci sta bene Vai, vai Danfris Come un treno Danfris Nessuno che si propone qui E allora devo andare da solo Aspetto il tempo giusto Mamma mia Danfris Si infila E c'è l'autogol E c'è l'autogol Che super inizio Che super inizio Super inizio davvero Un autogol propiziato in maniera esemplare Ancora lì con questo lancio lungo Che ci fa solo piacere Un altro re di Brozo Quel McKenzie ci sta creando Tantissimi problemi In quella posizione Qui Bastoni bravo Andiamo da Cialanoglu Sulla destra Il lancio lungo Quella gamba dove è arrivata Non esiste gamba tesa Qui in questo gioco Vai Brozo No Brozo Di là Di là Dai Brozo Ah brutto fallo L'ho fatto io qui Ok Lui sbaglia A questo punto Evidente L'errore Danfris Per Mkhitaryan Non era ancora Questo quello che volevo fare Era questo quello che volevo fare Dai Bro Dai Ciala svegliati Chris che prova a infilare In qualche modo ce ne riusciamo Non senza qualche problema Liberato ancora Danfri sulla destra Riusciamo a passargliela Si infila qui Lukaku Non è Come ha fatto con quel secondo take La non prendere il pallone Non lo so ragazzi Non lo voglio sapere E dove è passata quella palla Neanche questa Bravo Bastoni Fermare tutto Si fa vedere Mkhitaryan Niente Non mi sta Riuscendo uno Di passaggio in profondità Qui Bravo Cosenza qui Mamma mia Questa è una bella occasione Lui bravo Con il difensore a coprire Guardate che tratta del tiro Nella tattica La proviamo sempre Vai da Lautaro Vediamo se riesce Si ma Non ho capito Questo regalo Io non l'ho capito Non l'ho capito Lukaku ha vinto il contrasto aereo Poi lui era solo Perché non c'era nessuno De MIA al centro Ma me l'ha letteralmente Ripassata E a questo punto Diciamo grazie Qui se ne vanno bene Brozo e Lautaro Che non senza qualche difficoltà Riesce a tenere il panno in campo Fatti vedere Fatti vedere Fatti vedere Lukaku Fatti vedere Ma che cos'è questo cross Che cos'è Con l'uscita di Donna Rumma Brutta brutta E noi ci riproviamo Tra l'altro poi Lukaku è pure In super forma Quindi ci sta La vince ancora? Lautaro che ci prova Mamma mia Ah E qui Skrinar Dice no Tutto di prima Molto bene Qui ho fatto un paio di errori Che non ho capito neanche io Partiamo con calma Stavo provando Stavo provando a questo punto Non ci credo ragazzi Palla in avanti Verso il compagno C'è l'opportunità per il contropiede Anticipa la traiettoria del pallone Scampato pericolo Ah brutto errore qui Iniziativa promettente Ma gli avversari hanno fatto buona guardia Ci è andata bene alla fine Vai Lautaro Bravo Abbiamo esagerato qui Bravo Bastoni Ripartiamo con calma Non la rischiamo a questo punto Bello questo esterno L'ho visto Provo a servirlo Palla che non filtra dove vorrei E qui ci sta che fischi Il fine del primo tempo Ragazzi senza Non devo strafare A prendermi magari quel tempo in più Stiamo dominando In termini di possesso palla Non ricordo su grandi occasioni Lui purtroppo mi ha regalato In realtà uno è un autogol Però meritato Perché l'azione era carina E l'altro invece è una Un regalo Ci prova Lukaku E qui Forma verde Ci sarà un motivo Incursione centrale Subito dal calcio d'inizio Impressionante Esatto Qui fallaccio Ma in realtà Ho il vantaggio Addirittura rosso Per questo non mi ha dato il vantaggio Mi sembrava così brutto Se devo essere onesto Diciamo che a questo punto A questo punto Potrei sbilanciarmi E dire Che siamo in divisione due ragazzi Lo posso dire adesso E direi che lui ha abbandonato 3 a 0 3 a 0 come meno Abbandona ragazzi Finisce Prima questo video Perché abbiamo raggiunto La promozione Con una striscia Di 4 vittorie Di fila 19 su 19 Ci siamo Facciamo anche il salto Con voi Quindi Come nella stagione precedente Riusciamo ad arrivare In promo In divisione due Ci siamo ragazzi Adesso ne servono 22-7 vittorie Un pareggio Per andare in prima Che è il nostro obiettivo Principale Ragazzi Ve lo ricordo Solo con i giocatori dell'Inter Come state vedendo Io spero che Questa partita vi sia piaciuta Spero che i contenuti vi piacciono Ragazzi Se vi piacciono Vi chiedo Per favore Di lasciare un mi piace O un commento Per mostrarvi il vostro Per mostrarmi il vostro supporto Io vi ringrazio Per aver guardato E ci vediamo alla prossima